Ciao, come stai? Spero tutto bene. Io sono Gabriele e questo è il canale di Outdoor, la corsa è una medicina, la scritta che vedi lì sopra. In questo canale parliamo di corsa, nel menu del canale puoi trovare accesso a tanti tanti video sulla corsa, non solo recensioni di scarpe, ma anche consigli sulla corsa più in generale dal punto di vista di altri aspetti. Oggi ti voglio parlare di una scarpa che ho iniziato a usare questa settimana, mi sto trovando molto molto bene, penso che la userò ancora di più e eventualmente aggiungerò altre informazioni e commenti. La scarpa di cui ti parlo è la Scott Kinabalu Ultra RC. La Scott Kinabalu Ultra RC è la sorella minore, diciamo, di una scarpa più famosa, che è stata vista sicuramente nel mondo del trail, che è la Scott Super Truck Ultra RC, che ha vinto due edizioni del Tordegianz con Bosatelli. La grande differenza tra queste due scarpe però, oltre alla suola, è la tomaia. Infatti ero un po' scettico e invece con la tomaia della Scott Kinabalu Ultra RC si sta molto comodi e molto larghi davanti, come piace a me. Questo non me l'aspettavo perché il disegno non sembra così largo, invece sono stato molto molto bene dentro. È una scarpa comunque che rimane leggera, ha comunque una buona conchiglia dietro, che mi dà stabilità e soprattutto sulle lunghe distanze mi aiuta. Un'altra cosa che mi aiuta è la schiuma che c'è nell'intersuola, molto reattiva, morbida ma non troppo, perché il troppo morbido non va bene. L'allacciatura va molto bene, la forma rocker mi aiuta nel piano perché mi aiuta a spingere un pochettino ed è molto comoda anche su lunghe distanze, non ho avuto problemi di sfregamenti vesciche, quindi la userò ancora anche con dei test più importanti, più cattivi. Scott Kinabalu Ultra RC la trovi nel nostro e-commerce di cui ti alleggo il link nella descrizione di questo video. Bene, vattela a guardare e provatela anche tu, ti troverai sicuramente bene, se hai delle domande scrivi pure. Ciao, buona giornata!